Una biciclettata sabato per evidenziare come l'ultimo provvedimento del sindaco di chiusura delle piazze sia sì buono dal punto di vista della chiusura al traffico veicolare, però sia accompagnato da questa follia della chiusura anche alle biciclette. Noi crediamo che la mobilità ciclabile debba essere incentivata. Si troveranno in piazza Insurrezione vicino al barco ZTL alle 10.30 di sabato gli attivisti di Padova 2020, il movimento nato spontaneamente, le scorse elezioni e che candidò Francesco Fiori a sindaco di Padova ottenendo un risultato inaspettato. In sela le loro biciclette protesteranno contro la decisione del primo cittadino di chiudere anche i ciclisti le vie del centro per il fine settimana. L'idea è nata su internet creando un evento sui social network e l'iniziativa è piaciuta a molti. Questa biciclettata è aperta a tutte le associazioni e anche a tutte le altre forze politiche. Chiunque voglia raggiungerci ci sarà. Abbiamo avuto diverse condivisioni da esponenti di altri partiti dell'evento, abbiamo avuto condivisioni da parte di associazioni sempre legate al mondo dell'ecologia. Una manifestazione in cui verranno coinvolti anche i commercianti con quello che viene definito cash mob. Per magari portare, fare una piccola spesa con il passarecipante alla biciclettata, una sorta di cash mob per i commercianti delle piazze di via San Francesco, via Zabarelle e piazza Remetani.